MADRID 20.000 mi piace per il prossimo video in piscina Ciao Ciao a tutti ragazzi e benvenuti al suo canale Oggi ragazzi siamo qui Signori come state vedendo insieme a tutti i ragazzuoni Ciao Per fare ragazzi un video incredibile in piscina Olè la piscina più bella al mondo Esattamente ce l'abbiamo solamente noi Oggi ragazzi siamo qui per fare una sfida Una challenge dove saranno protagoniste delle scatole Ok Perché ragazzi abbiamo in piscina 10 scatole E all'interno di ognuna ragazzi ci sarà un cibo Ok 5 scatole hanno un cibo buono Mentre le altre 5 tatino secondo te Hanno un cibo usato che appunto non è buono Ok Ci tufferemo ragazzi una volta testa Sceglieremo una scatola Per un totale di 2 tuffi a testa Perché 5 per 2 fa 10 Ah no 10 Esattamente Quindi ragazzi le regole sono molto semplici Direi di iniziare con questo video E di andare a mangiare Ok ragazzi Visto che sono il portario del canale Inauguriamo questa sfida Andiamo a prendere le scatole Vai home Noi speriamoci a brutto Allora Prima che tocchi È quella buona infatti Allora Sentire la consistenza No 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 Non si stocca niente Non si tira niente Allora prendo questa Ok bravo Ma beggio sapeva Perché se l'è segnata Capito Ma che segnate Stanno tutte di là ragazzi Perché tira vento Quindi Ok Ragazzi Ehi c'è il rumore Già che non c'è niente Sicuro è una mega dolce Buonissimo Vedere È un biscotto al cioccolato Sì Sì Siete pronti Ragazzi Il primo l'ha messo buono L'ha messo buono Adesso però Cos'è il cacao Eh sì Godo Non è buono Perché per te non è buono Vediamo È proprio buono Volete assaggiare ragazzi Non possiamo Eh beh allora L'ho piaciato a fare io Perché sono sicuro che becco So cosa c'è nelle scatole Quindi becco con le bronzo È perché ha fatto la spesa con me E quindi però non sai dove sono Eh però Sicuro la becco quella Vediamo Tati vai Prova a tuffarti Non è sicuro la sai Eh perché c'è una cosa che Vai Tati Che va schifo schifo Ah non ti piace Ok vai beccala Ma non è freddito No no Allora ragazzi Io voglio uscire Quindi becco quella lì Che è già fuori Ma non bastava tuffarti Bastava andare sul bordo Non deve neanche bagnarti Vabbè dai Attento che si bagna così È pesante Tati Come è Tati Ma lo so rumore non mi piace Vai Tati Metti giù Apri Ma dove vabbè dai Le acciughe Pensavo meglio Dove vado uno Vabbè mi piacciono le acciughe Come ti piacciono le acciughe Ma che è tutto così Che c'è l'olio Vabbè un po' d'olio Acciughe sott'olio Non mi piace le acciughe Non mi lo farmi Bello dai Che schifo A me piacciono Sì se vuole ma non così Beh ragazzi preferite le acciughe oppure le lingue Fate voi Le commentate Ma Tati mangia mangia Ma io ho finito Non dico finirlo Però dai Deve hai di mangiarle Vabbè dai Mangia due tre Anche perché non gli fanno schifo ha detto Col pane erano buone così Vabbè ti porto il pane Allora quindi però è andato via Un cibo buono E uno che teoricamente non era buono Ma Tati piace tutto quanto È difficile che prendesse una cosa che non gli piace Di ragazzi mister Puoi andarmi peggio So sincero La via del signore Prego mister Ma io non so cosa c'è Dai dei peggio Non che io Vabbè non si è confritte ragazzi Le mani onte Le mani onte Guardate tutte le scatere C'è sono andate tutte là Nell'angolino Andò a prendere un'altra brutta Così io eri ne abbiamo Di più buono Una buona Un bling blu Quella Attenzione mister ha scelto Porca miseria Ieri mister Mi se non mi convince Il peso non ti convince Beh ma Vabbè c'è neanche tu a fare la spesa con noi Sì però ecco Però non puoi sapere il peso specifico Della cosa buona E della cosa cattiva Vediamo un po' Vai mister Lado Vediamo questo pacco happy birthday Ah Che cosa c'è mister Cos'è? Cos'è? Tutta disidratata Questa è buona Tutta la bontà della natura Beh questa è buona A me fa schifo Quindi facciamo scelto questo Fa parte delle Sì Vai 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 ragazzi Vuoi esaggiare? Sì Va bene Fammi sentire l'odore Ma pure qua devi mangiare sempre tutto Prova ad usare È buona È buona Come sta roba? È buona Magari è frutta disidratata Vuoi più? È frutta si Non c'è sete È zuccherato È buonissimo Non c'è sete Ti metti male da parte Mangiato poi io Sembra tipo melone marzo Ma questo mangia tutto Le alici mi piacevano Ma che cosa scelgo? Le acciughe Ma scusami Ne fate scegliere con me Lui secondo me Mi ha detto Sì prendi questo che fa schifo Ma lui piace tutto Andrea Adio Puoi andare tu? Certo Adio raga Sicuro becca quella roba Direttamente dentro la ciambella Andrea Per ora stavate via Due cose brutte E una cosa buona E una cosa buona Quindi Eccolo La schiena La schiena Si soffatto Guarda lì le scatole Dov'è? Questa prende Ormai è presa Vieni Ma è piena d'acqua Va bene Va bene Il cibo è pieno di cloro Potrebbe essere È tutto imbustato Come granchi È scarafale Sicura Abbiamo preso roba Dai dai Sarà una cosa buona Solo positivo È positivo Perché sì Dai che ne sai Andiamo Mi piace Mi piace Mi vuole questa Andrea No però Mi prende un po' schifo Vabbè dai Ah ketchup No no Mi piacciono Vabbè allora Passiamo Posso Allorite dai Quindi adesso Sono andate via Due cose marce E due cose buone No Tutte buone No no Pensavo peggio Pensavo No ci sono buoni Questa è la buona È andata bene Dai Bene Enrico Ragazzi il mio turno Allora io sono abbastanza schizzinoso Con il mangiare E con la sfiga che ho Sicuro prendo qualcosa Che non mi piace Quindi vabbè Tuffiamoci Camminando Vai Harry vai Quella la distante Perché devi Eh non lo so Ci sarà un perché Ci sarà un perché Vediamo se te ne penti dopo Vieni Harry Fa rumore Fa rumore Spero che sia qualcosa Proprio di schifoso Harry Ma no Spieghiamo Spieghiamo Magari quel Vabbè Attenzione No Ma che se succede Figite Figite No Figite 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 E cos'è Proprio Alcino Oh Do Tre Siamo in mezzo La natura Almeno un morso Harry Vabbè Il morso glielo dà Fai finta che sia Tipo Ma io la vedo da vicino Bello Ma hai piccato o no? No Tati ha detto di no Vai Harry Ah però è croccante Ho fatto croc Sembra di per la patatina Capi? Harry dove vai? A piantarli? Madonna che schifo Ma io li odio ste cose Non è piccante Non è piccante Ma Tati Ma che sa? Fa sentire? Sa da erba Non sa Sa da erba Ma è insalato Ma è insalato Ma non mi piace Tati dagli un morso No no io no Questo no Questo va colato Infatti Che schifo Ok vabbè dai Allora anche la terza cosa brutta è andata Sì è andata Ok ragazzi sono andate via Tre cose non buone E due buone Quindi là ci sono tre cose buone E due non buone Quindi ti tocca quella non buona Magari Mamma mia Magari Hai un bel tuffo carpiato Devo arrivare direttamente là Hai un prendi quella brutta Allora Sono quattro qui e una Vai vai A livello di statistica Con tre buone E due schifose Vuoi che uno schifoso su due Sia lì Speriamo Vai Omar Speriamo Per una sta scatola Sì È il barattolo Spero che È quello che pensiamo Spero anch'io Direttati che abbiamo fatto la spesa Allora io so Cosa c'è di pesante Che fa schifo Io no È quello mi sa Credo che sia proprio qui dentro Mamma mia Quanto godo Te lo sto godendo tantissimo È quello Allora Se è quello che penso Harry mi vai a prendere un ghiacciolo Per favore Sì Ok Allora Omar Bene ragazzi È quello Non è quello Non è quello Ma è questo Il nutellino Perché è una roba piccante ragazzi Il nutellino Sicuro becco io Sicuro Tati Nutellino ragazzi Con un po' di cloro Vabbè dai Se capite che questo ti piace La nutella È sempre la nutella Tati No non la voglio Tacciati la lingua dentro Non la voglio Se l'è limonata Quindi là in mezzo Adesso ce ne sono Due buoni E due marci Tati prego Dai Tati Confidiamo in te Vai Tati L'ho preso a loro Vieni vieni Comunque è calda l'acqua Che c'è lì dentro Tati No Che cos'è sta cosa Oddio Non mi ricordo neanche io È buona È buona È buona Sì Godo 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 No lo stai scegliendo Godo Altra nutella Vai lì in cavaleo No come l'oreo Andre l'avevo messa per te Eh già Andrè con calma E con calma Ce n'è per tutti Andrè però So già che prendo quello che fa schifo Dopodami un pezzo di questa No piuttosto tenitela per dopo Non la consumate Perché? Non la consumate Un altro pezzo Io l'ho vinta Ho capito ma ci siamo anche noi Conterno qua Dai Tati O per le statistiche Per le statistiche Bravo Tati comunque Godo Chi tocca Chi rimane Mister Andrea Ed Harry Con tre pacchi rimasti Due cose schifose E una buona Ovviamente Non potevo che avere questa statistica Ok Bando vai Prego mister Mi tuffo direttamente da lì Ah manco ti tuffi magari Sono tre mister vai Due schifose E una no Esatto Bando vai Oddio Quindi Dici che per il peso Quella è buona Ma fai tototot È buona Forse è buona Non lo so Potrebbe essere buona È buona È il barattolo Tu hai detto che è la cosa brutta È un barattolo Eh beh c'è un'altra cosa brutta però Attenzione Adesso la scopriamo È buona No Lo sapevo Lo sapevo Questa è buona Le hai ipo Andrea Caramelle Caramelle Adio eh Gli preferisca cosa brutta Ok Va bene Andrea È tutto buono Vai vai Aprivo Dai E adesso punto Andiamo tutte e due Oh se no fate una cosa I buttati insieme E ne prendete una Tutte e due insieme Che è quello che ha appena detto Andrea Ok Non ho sentito Scusa Però ragazzi Deve due cose brutte C'è una molto brutta E l'altra L'altra commestibile Le contendiamo ieri Andiamo a questo punto Vai vai Aspetta Ti chiamo Ci vuole il giallo Vabbè vandi là Scegono Tieni home So che ti piacciono Grazie Mister Foto E allora per come ci siamo messi Destro e sinistra È così come ci siamo messi Come ci siamo messi Ok Ti prego signore Le prendiamo Con calma Due Uno No Mi ha toccato prima io questa Andre Beh Cos'è quel rumore Andrè Tocca No Quella è buona C'è questa buona Venite qua Venite qua Dai lo so che ho preso Quella roba Lì Ah se vado prima io Tati aspetta Tati vai a prendere il ghiacciolo Per Harry Non aprite Non aprite Non aprite Ok No Io l'ho magionizzata La banana Dai Alla banana Mangiavo io quello Dove si vuole c'ho Basta Aspetta No Se vuoi puoi fare il cambio Con Harry Vieni a mamma Ora facciamo una bella Marenna Andrea li mangiavi da piccolo Dai No 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 Sai che una cosa Io li vomitavo da piccolino Sì Quindi si adora Adora Che boh momento quella Vabbè un assaggio piccolino Andrea un bel cucchiaio Bene così Ingoio o in mastico No no ingoio Giù subito Andrea Quello là Tante proteine Andrea Così diventi sano e forte Che c'è Ma ingoiato È ingoiato Cos'è se riusciva quello piccante Cosa facevi Si suicidava Mi fa schifo Vaglio la frutta a me Ma pensa se beccavi un'arancia Eh ho capito Ma meno male Vabbè andata Andata Tanti che hai preso Latte Latte da lì Ok Harry è arrivato tutto Vabbè Intanto apri Vediamo che c'è Scusa Tieni Fammi fare No Devo ancora capire Cosa c'è qua dentro Vediamo un po' Tabasco Salsa tabasco Che cos'è Harry Non lo so Pepper sauce Ok Pepper è il peperone No È il pepe È il pepe È il pepe Vai coi denti Lì non picca ancora Tranquillo Vai mandare un messaggio A mamma Harry Mamma ti ho voluto bene Ok senti l'odore solo prima Cioè è già viola qua Poi due Wow Ma sta sempre da ortaggio tipo Da ortaggio Come il coso di prima Io ho preso tutto Due cose Non me bevo Dai a me cucchiaino Ok Harry Ci sei? Aspè Ma come sce Oh come scende questo Vai 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 Non ti preoccupare Scenderà Oh madonna Scendo proprio piano Perché sono detto Proprio forte Basta così Vai vai Harry Tranquillo Tanto penso che basti Apri subito il ghiacciolo Tadati Viene un po' in bocca E poi ingoio No Butto giù subito io Le fiamme qua mi vengono sicuro Vai Abbiamo i pompieri Harry Non ti preoccupare Ghiacciolo 3x2 1x2 2x4 1x3 Ma Harry Sade? Lo so fa schio Sì Ma hai piccante? Sta piccato con... E non hai neanche fatto la 3x4 Con calma Ancora 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 basta latte ghiacciolo Ma che schifo Stai bene? Che schifo Anche che ti mangio ste cose Anche che piacciono ste cose Sei stato comunque bravo Quindi ragazzi mi raccomando Lasciato mi piace se volete vedere Un'altra sfida dove bisogna cercare Di scegliere la scatola giusta Se siete nuovi iscrivetevi al canale Grazie a visione grazie di tutto E noi come sempre ci vediamo nel prossimo video